Dopo un anno di riposo torniamo a correre, questa cosa per me è molto stimolante, il gruppo R4 è la categoria nuova chiamata così dalla FIA e credo che sia la macchina più attesa nel 2020, per questo ci fa molto piacere poter debuttare appena disponibile in Italia. Nel 2013 siamo partiti con la 208R2, è stata una bella annata perché abbiamo fatto lo sviluppo in Italia, l'adattamento alla macchina sviluppata comunque in Francia e in Italia le strade comunque sono un po' diverse, così per dare ai trofeisti una macchina che fosse già a posto. Abbiamo fatto lo sviluppo con le Pirelli, come faremo appunto quest'anno, per cui cercare di mettere al meglio una macchina che vada bene a tutti i trofeisti o comunque a chi la vuole comprare sulle strade italiane. Siamo sempre pronti chiaramente a dare consigli a tutti, insomma è per questo che cercheremo di essere sempre a disposizione, oltre che a portarla in gara e cercare di spremerla al massimo. L'abbiamo saputo veramente da poco, è stata una piacevolissima sorpresa, soprattutto perché è Peugeot, perché ritornare su una Peugeot dopo il 2018 vincente, sempre con 208, diciamo che era insperabile, quindi è stata veramente una gran bella sorpresa. Non vediamo l'ora di iniziare, credo che la prima disponibile sarà nostra. La competizione ci deve essere, noi partiamo per vincere, per far bene, è chiaro che le cose sono collegate, sviluppare la macchina per chi poi l'andrà ad acquistare e poter sfruttarla per poter vincere il campionato. Noi partiamo per quello, cerchiamo di non lasciare niente al caso, insomma Peugeot come partecipa ha sempre fatto vedere di primeggiare nelle classifiche, cercheremo di fare così anche quest'anno. Ho imparato da Paolo ad essere professionista sempre e quindi credo che non cambierà nulla rispetto agli anni precedenti. Il fatto di essere stati fermi un anno può solo che aumentare la nostra grinta e le aspettative sono sempre comunque alte, sia su Peugeot che su di noi e quindi affronteremo sempre le gare come abbiamo sempre fatto. Dai primi test è subito risultata affidabile, abbiamo fatto test in terreni molto accidentati con prove di durata per cui l'abbiamo messa sotto pressione dall'inizio perché è giusto vedere da subito dov'è che magari si possa intervenire. Devo dire che ha passato veramente a pieni voti questo esame per la resistenza, poi dopo ci siamo potuti concentrare sulle performance che sono state buone. Il passo della vettura ha fatto sì che anche nel veloce è molto stabile, nello sconnesso ha un motore che è 1200 turbo e anche se è tre cilindri, che uno pensa che tre cilindri sono pochi, no? I cavalli ci sono ma soprattutto la coppia. La grossa differenza che è con la precedente è che prima era un motore aspirato 1600 per cui si doveva tirare su, i cavalli erano in alto, ora già praticamente a 3000 giri hai una coppia fantastica. Direi che addirittura in certe situazioni su sterrato si possono fare i tornanti addirittura in terza marcia, per cui per rendersi l'idea di quello che è la coppia della macchina. Questo facilita, avendoci un motore sempre in tiro, facilita proprio la guida, per cui anche se una volta arrivi un po' sotto coppia non succede come con l'aspirato che devi essere preciso con i giri. Ma riesci a essere sempre guidabile perché hai sempre la potenza. In bocca al lupo. In bocca al lupo.